Evidentemente le segnalazioni arrivate dallo stesso commissario dello Stato ancora prima dell'approvazione non sono bastate. Il disegno di legge conosciuto come antiparentopoli infatti è stato impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale per virazione degli articoli 3, 51 e 97. Inizialmente la norma doveva prevedere l'incompatibilità con la carica di deputato regionale anche per chi ha familiari inseriti all'interno di enti che ricevono soldi pubblici. Sulla base delle indicazioni del commissario la parte che riguardava i parenti era stata tolta dal DILDL lasciando una norma che dichiarava ineleggibili e incompatibili alla carica di deputato regionale i soci, funzionari e dipendenti delle società e o dei enti di diritto privato che fruiscono di provvidenze dalla regione o che siano dalla stessa controllati o vigilati. Il commissario dello Stato ha però bocciato tre commi della legge. I rilevi riguardano la genericità con cui nel testo si fa riferimento ai funzionari, socio e dipendenti di enti per i quali è prevista l'ineleggibilità o l'incompatibilità. Un provvedimento fortemente voluto dal governo regionale e che era stato al centro di faticose trattative per diverse settimane. Secondo il presidente Crocetta ha retto il 95% della legge e i rilevi potranno essere affrontati con una nuova legge. Per la pubblicazione della legge in gazzetta ufficiale bisognerà aspettare la ripresa dei lavori parlamentari a metà settembre. Il commissario dello Stato ha invece dato il via libera a un'altra norma approvata dall'AS alla vigilia della pausa estiva, quella che abolisce la tabella H. Viene così messo da parte definitivamente l'elenco di enti e associazioni per anni finanziati con fondi della regione nell'ambito della manovra economico-finanziaria e in alcuni casi simbolo di spese clientelare. La nuova legge prevede la predisposizione da parte della regione di un bando aperto al quale potranno partecipare gli enti, le fondazioni e le associazioni, purché dimostrino di avere alcuni requisiti per beneficiare dei fondi pubblici con una priorità per chi è impegnato nel sociale e si occupa di disabilità. Sono stati stanziati 6 milioni e mezzo per enti e associazioni, 2 milioni per i teatri e 5 milioni per le ex province.